Non è concepibile che una squadra, al di là delle assenze, degli infortuni, non ci metta il 100% sul piano dell'impegno, della carica motivazionale, della grinta, della determinazione. Poi si può anche perdere. Questa squadra ha dimostrato veramente di non avere una grande grinta, di non avere una grande personalità e questo è molto preoccupante. Oltretutto gli otto punti in classifica sono un segnale abbastanza pericoloso. Adesso sabato avremo un incontro con l'Udinese, tanto di Cappello che fra l'altro ha due punti in più del Milan e sta crescendo questo Udinese. Non ci sarà tre quarti di difesa e anche lì la nota di demerito è appunto quella della fase difensiva che è molto lacunosa. Ci vogliono dei senatori, non è sufficiente un giocatore che sappia trascinare il gruppo, soprattutto quando nel gruppo ci sono dei giovani, ognuno dei quali va per proprio conto. C'è una situazione all'interno del spogliatoio che è un po' precaria. Non a caso è arrivato questo ritiro punitivo, se vogliamo. E sono arrivate delle reprimende forti da parte di Gagliani e da parte dello stesso allenatore. Era capitato nel recente passato. Qualcuno aveva fatto delle offerte per entrare nel Milan, però c'è una situazione un po' particolare. Il Milan fa parte di un gruppo molto... non si può staccare da Mediaset. Bisognerebbe scorporarlo e poi eventualmente dare delle quote. Così invece, come è strutturata adesso la Mediaset, non puoi entrare solo nel Milan. Puoi entrare come sponsor, ma come azionista devi entrare nel gruppo e quindi i costi si dilatano.